All'unanimità ieri sera il Consiglio Comunale di Gera ha detto sì al piano per il rilancio del centro storico. Il progetto è stato studiato dalle componenti della Commissione Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti e composta da Vincenzo Giudice, Anna Comandatore, Carmelo Orlando e Angela Di Modica. L'obiettivo assieme alle varie associazioni di categoria presenti sul territorio, tra cui Confcommercio, Proloco, Gera Centro, Confesorcenti, è quello di avviare una serie di interventi strutturali e non che trasformino il centro in una zona quotidiana di attività e iniziative commerciali a partire dall'apertura domenicale costante di tutti i negozi. È stata pure proposta l'attivazione di mercatini per il rilancio dei prodotti locali. Dovrebbero tenersi alla Villa Comunale Garibaldi, in Piazza Umberto I, Piazza Roma e Piazza Salandra. Altro punto del progetto è quello di agevolare fiscalmente tutte le nuove attività che si insederanno in centro fino al punto da richiedere l'ampliamento della zona franca urbana proprio a quest'area. Spazio inoltre ad angoli artistici permanenti e a botteghe tradizionali. Dunque si punta al rilancio della salotto della città che dovrà essere fruito a 360 gradi dai gelesi, ma anche dai turisti. La Proloco durante lo suo intervento si è soffermata proprio su questo aspetto. Gela, è stato detto, deve essere una tappa fondamentale per chi vuole trascorrere le vacanze. La città infatti dispone di bellezze archeologiche che non hanno uguali ed un mare straordinario. Bisogna soltanto valorizzarli. Di turisti in città se ne vedono pochi in effetti. Le nostre telecamere ne hanno immortalato due. Si tratta di una coppia di sposini. Lui è un ristoratore, lei un estetista. Arrivano dalla Russia. Grazie ad un amico gelese i due ragazzi si trovano a Gela da qualche giorno. E della città, baciata dal mare, ne sono rimasti affascinati. Siamo venuti qui per visitare Gela, perché è una città bellissima che si trova in Sicilia, dove c'è il mare bellissimo, dove si mangia molto bene, quindi vogliamo conoscere cultura meglio. Ma per quale motivo proprio Gela? Perché i nostri amici sono stati già a Gela e sono rimasti molto contenti e hanno detto che è una città bellissima. Cosa avete già visto di Gela e cosa vi è piaciuto? Mi piace tutto e anche è molto bello hotel dove siamo rimasti, che è molto particolare. È piaciuto il mare, persone molto amichevole. Noi siamo venuti qui e subito abbiamo sentito caldo, quindi c'è la differenza. Quindi noi stiamo pensando di passare tutti questi giorni al mare. Ma avete saputo che Gela è una città greca che risale a 2700 anni fa e che possiede tanti reperti? Sì, ma sono venuti per vedere meglio questo paese. E cosa porterete di Gela in Russia un giorno? Sir, fatto! Il umore è bellissimo, dopo una vacanza a Gela. E vogliono portare anche un po' di prodotti locali, prodotti tipici siciliani.